Monica Berti è una delle titolari insieme a altri quattro componenti, che cosa ha determinato e soprattutto che cos'è Berti SRL in questo settore? La nostra storia si apre nel 1962 con un'azienda che però costruisce strade e che non ha niente a che vedere con la pietra serena. Negli anni 80 invece si diversifica nel settore della pietra serena investendo appunto in alcune cave di pietra serena. Da qui nasce la nostra storia che ancora sta durando, quindi siamo orgogliosi di questo e i nostri prodotti, quelli che vedete, sono il risultato di lavorazione, di staff, di organizzazione, di un'organizzazione abbastanza complessa. Quanto è importante la competenza, la professionalità ma anche la passione per il proprio lavoro affinché si determini un prodotto eccellente? Beh, è indispensabile, nel senso che comunque la ricerca deve comunque proseguire. Noi puntiamo molto sulla qualità dei nostri prodotti per poter dare come prodotto finale, intanto non dico la perfezione, ma ottimizzare ovviamente un prodotto che possa essere gradevole sul mercato. Noi, essendo ancora legati alle strade, perché esiste la nostra impresa di costruzioni stradali, come Berti Sisto Spa, ovviamente facciamo ristrutturazione dei centri storici. Questo è un po' il fiore all'occhiello della nostra azienda. Poi, siccome le cave sono di proprietà, lavoriamo dal blocco alla lastra al prodotto finito, quindi alla pavimentazione o rivestimento e questi prodotti vengono messi sul mercato, tutti. Com'è cambiato nel tempo il mercato e la richiesta del mercato stesso? Chiaramente rispondiamo più che un'offerta a una domanda. Questo vuol dire che dobbiamo seguire un mercato ben preciso che non viene dettato da noi. Ci orientiamo verso l'estero perché in questo momento è importante esportare, però noi rimaniamo molto legati al nostro territorio. Dove arriverà la Berti? Facciamo una previsione futura? La previsione è quella di poter aumentare l'esportazione e mantenere comunque sul mercato la nostra tradizione, che è quella appunto di ristrutturare, di pavimentare come stiamo facendo via Tornabuoni a Firenze. www.bertisisso.com